buongiorno e bentornati a tutti i carissimi produttivi e le carissime produttive che seguono il canale fra l'altro un anno più di un anno anzi che il canale diciamo è attivo perché prima chi sa chi segue lo sa prima mettevo qualche video solo così sporadicamente da un anno che il canale è attivo e voi continuate a seguirci e a darci forza vi ringrazio di cuore veramente l'argomento di questo video è il le trappole monocromatiche picciose non so di preciso come si chiamano sinceramente vi farò vedere come le utilizziamo noi e insomma ovviamente sempre molti consigli utili qui dietro di me finalmente abbiamo trapiantato anche il famoso nicarieddu quella varietà di sapore di ciliegino di pomodoro ciliegino di cui ne abbiamo parlato nei video recenti insomma ve l'ho presentata vi farò vedere anche le piantine da vicino ecco qua le piantine del nicarieddu il nostro famoso ciliegino piantine ancora trapiantato le trapiantate da pochi giorni e sono già abbastanza diciamo in salute certo c'è un bel caldo considerato da noi siamo con minime sopra i 20 gradi e massime sopra i 30 e dentro la serra si arriva benissimo 35 gradi infatti vedete l'umidità c'è una bella umidità stiamo dando irrigazione costantemente tutti i giorni sono il terreno supera temperature insomma ottimali quindi bisogna raffrescare fornire acqua in questi casi come abbiamo detto quando le temperature sono alte ci vuole l'acqua per il pomodoro anche se e dovremmo dare meno possibile ma come facciamo non lo possiamo fare disseccare così piccolo sarebbe un peccato sono cimate le piantine se vedete sono cimate la distanza abbiamo adottato anche qui è 50 fra piante e pianta e poi abbiamo i filari messi questa quello più stretto a 80 e quello più largo a 120 come nell'altro impianto che abbiamo visto ok e poi cosa vi farò vedere a in questo video abbiamo detto parlare di questo ok ho sbagliato bene tagliamo prima di andare a vedere come utilizziamo queste famose trappole che poi sono comunque per il monitoraggio come sempre vi continuo a chiedervi di iscrivervi di mettere mi piace di commentare di condividere i video andate a guardare i link in descrizione fra cui c'è anche il blog ok i link sono sempre collegati a cose utili riguardo all'argomento va bene ovviamente ci sono anche i video nelle schede allora queste famose trappole appiccicose vanno posizionate nella zona perimetrale all'interno della nostra serra vedete però vicino alla parte perimetrale appunto tutto intorno alla serra perché ovviamente gli insetti entrano da fuori si spera che nella nostra serra dopo la soluzione non ce ne siano benissimo queste le ho tagliate vedete sono tagliate al meno peggio perché di solito sono dei fogli più grandi ma non ce n'è bisogno ne bastano una ogni 10 15 metri considerate un foglio appiccicoso ogni 10 15 metri vengono utilizzati in serra maggiormente nella coltivazione di pomodoro per catturare per monitorare la la presenza di aleuroidi va bene quelli sempre famosi responsabili della trasportano il virus della la virosi dell'arricciamento fogliare giallo del pomodoro e più uno non ci vuole pensare le cose più ci deve pensare va benissimo ripeto servono per monitorare infatti in questo periodo così caldo ora siamo in questo settembre rovente qui da noi ogni due massimo tre giorni bisogna andare a non dico a guardarle tutte ma due tre a serra andare a controllare proprio vedere che insetti ci sono attaccati si spera che non ce ne siano però non se vediamo la presenza di appunto di aleuroidi andare a prendere diciamo a correre ai rimedi giustamente dobbiamo appunto fare i trattamenti come abbiamo consigliato in questo periodo appunto si devono fare spesso 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 leggeri veloci però spesso è inutile andare a fare un trattamento ogni due settimane con tantissima quantità proprio di miscela per il trattamento con dosaggi forti e inutili bisogna farli giusto a dosaggio poca quantità d'acqua ma ripetuti vicini vicini nel tempo due volte a settimana anche va bene come abbiamo consigliato c'è un video lo metterò nei link come abbiamo consigliato anche per l'orto per il pomodoro nell'orto a pieno campo perché il periodo bene o male il comportamento dell'insetto in questo periodo è simile molto simile benissimo cosa dobbiamo fare andiamo a vedere quello che abbiamo messo nella marmante nella clausa questo l'ho messo sei giorni fa vediamo che c'è pochissimi insetti ci sono non sembra nessuno sembra essere alle uroidi sembrano moscerini insomma niente di grave con le temperature alte in serra non si trovano bene ok perdonatemi quasi schiatta allora l'ultima cosa l'ultimo consiglio volevo darvi non utilizzatelo come metodo per diciamo arginare il problema per eliminare il problema volevo dire scusate non lo utilizzate perché intanto hanno un certo costo anche se ve le fate voi comprate la colla a parte se comprate queste già belle pronte diciamo hanno un certo costo anche se ne mettete tantissimi in una sera anche se le mettete in mezzo ai filari vicino a quello che volete voi non possono risolvere il problema quindi ma mantenere il costo di questo di queste trappole quindi solo appunto come monitoraggio solo per vedere facilmente la presenza dell'insetto solo per questo ok consideratele per quello che sono sono delle trappole per il monitoraggio della presenza dell'insetto non molti perché vi dico perché molti riempiono le serie di queste cose e vanno a spendere anche un bel polo di soldi invece il consiglio è di risparmiare quei soldi e utilizzarli per dei trattamenti efficaci ok vi ricordo sempre il nostro metodo è basato sulla repellenza noi non dobbiamo fare avvicinare alle piante l'insetto perché quando c'è quello infetto è finita non appena prende la virosi la pianta non possiamo fare più niente va bene queste sono cose di cui abbiamo parlato ora stiamo andando a vedere come le applichiamo per il resto fate i bravi picciotti e produciamo naturalmente non so se stralte ce la faccio i picciotti grazie